Torna la maxi area pedonale in centro ad Arezzo in vista della bella stagione. L'amministrazione comunale ha approvato su richiesta della Confcommercio la misura che riguarderà le principali aree del centro, interdette dunque al traffico veicolare il venerdì e il sabato sera dalle 19 alle 24. Una misura per favorire l'afflusso dei visitatori a piedi e contestualmente i locali del centro storico potranno anche allargarsi con i tavoli rispetto ai tradizionali spazi esterni. Ci sono però alcune eccezioni. La prima riguarda il percorso. La parte alta di via Guidomona con tratto di via Cavour e la zona di piazza della Badia non saranno inserite nell'area pedonale. Una decisione che l'assessore alle attività produttive e turismo Simone Cherici ha preso in accordo con la polizia municipale. L'altra novità riguarda invece il suolo pubblico. Stavolta si pagherà rispetto invece ai precedenti due anni segnati dalla pandemia. Per le aree tradizionalmente occupate dai tavolini all'aperto la tariffa sarà al 100% mentre ci sarà uno sconto del 20% per le porzioni aggiuntive. Una posizione decisamente contraria a quella richiesta pochi giorni fa con una lettera da Confesercenti a Rezzo ed avallata da tanti operatori che chiedevano una sospensione di questa tassa anche per il 2022, anno ancora nero sotto il profilo dei consumi. L'isola pedonale scatterà il 15 aprile e si arriverà almeno fino al 30 di giugno.